Sta per andare in scena un nuovo atto per quanto riguarda la telenovela della discarica Tremonti di Imola e che vede tra i protagonisti del dramma i gestori del sito, Konami e Rambiente, assieme alla Regione Emilia-Romagna. Contro di loro il Comitato di Cittadini vediamoci chiaro. Pietra della Discordia è il progetto di ampliamento del sito che prevede la soprelevazione del terzo lotto e che nella giornata di venerdì 1 giugno potrebbe riaprire i battenti. Finora infatti è stato il Comitato ad averla vinta con il ricorso presentato Altar regionale che ha di fatto bloccato ogni lavoro. Tra poche ore tuttavia la situazione si potrebbe ribaltare visto che per la giornata di giovedì è provvisto un'udienza del Consiglio di Stato a Roma che potrebbe annullare il pronunciamento del Tribunale regionale. E proprio in vista di questa data decisiva il Comitato vediamoci chiaro ha presentato un memoriale nel quale vengono sintetizzate le critiche sull'ampiamento della discarica. Uno dei punti fondamentali riguarda il vincolo paesaggistico. La Regione infatti non ritiene che l'area della discarica sia sottoposta a restrizioni per quanto riguarda questo tema. Di opinione contraria il Comitato che in questo gode anche dell'appoggio del Ministero dei Beni Culturali. Altro argomento caldo quello della qualità dell'aria con i gestori del sito che denunciano un peggioramento causato dal trasferimento dei rifiuti in altre zone. Anche qui il Comitato risponde colpo su colpo facendo notare come dei dati Atesir risulti che solo l'1,5 per cento dei rifiuti urbani è soggetto a spostamento. Insomma una bella matassa da sbrogliare per il Consiglio di Stato visto che in ballo non c'è solo la discarica locale ma l'intera autosufficienza logistica della Regione Emilia-Romagna.